Come si suol dire verba volant scripta malent, è proprio questo il significato del nome di questa applicazione o di questo wallet per scripta. Infatti il significato letterale di questo detto che viene dal latino è le parole volano, ciò che è scritto rimane. Allora, una delle funzionalità principali che dovrebbe avere la blockchain, per come la intendiamo, insomma come tecnologia e come derivato tecnologico da bitcoin, è un qualcosa che ci fornisce un timestamp e una certificazione temporale di un'avvenuta transazione. Quindi il concetto base di bitcoin è quello di certificare che a una certa data, quindi in un certo momento temporale, con un timestamp, viene certificato l'avvenuto trasferimento di un certo quantitativo da un wallet, da un indirizzo ad un altro. Questa è l'applicazione base di una transazione nel caso di bitcoin e della blockchain. Ecco, però l'utilizzo di questa certificazione temporale può essere ulteriormente implementato, incrementato, e questo che vi faccio vedere oggi con Manent è proprio l'esempio pratico. Perché cos'è Manent? Manent è appunto un'applicazione, un'applicazione da smartphone, di cui adesso vi farò anche vedere installazione e caso d'uso pratico, e serve per certificare la prova, in qualche modo, di esistenza, anche in un certo periodo, di un certo tipo di documento, che può essere un file, che può essere una foto, può essere un documento appunto digitale con un testo. Insomma, serve a certificare in modo indelebile e incorruttibile, perché su blockchain, un certo tipo di file. Vi spiegherò meglio questo aspetto e lo capiremo meglio quando vi faccio vedere l'esempio pratico direttamente sull'applicazione. Adesso guardiamo questo che è il sito, questo è il sito lanciato da Manent. Per chi non sapesse cos'è Scripta, è una blockchain di cui già ho parlato e linkerò a questo video l'introduzione a Scripta. È una blockchain che funziona su un sistema ibrido, su un consenso dato da Proof of Stake, più un sistema Masternode. I sviluppatori sono per lo più italiani, quindi è un progetto che nasce in Italia, e vuole, tra le altre cose, appunto implementare anche l'aspetto di Proof of Existence, ossia la prova di esistenza alla certificazione di file digitali, che potrebbe portare tantissimi utilizzi pratici, no? Proprio a livello di atto notarile, in qualche modo. Quindi, una marcatura temporale. Guardate che bello quello che è il sito, a me piace tantissimo come l'hanno realizzato. Vi faccio questo update, per chi ha seguito già Scripta, a provo di farvi vedere di come effettivamente i progetti validi continuano a sviluppare, quanto effettivamente non conti tanto l'equivalente e la speculazione che avviene sul mercato, ma poi a lungo andare è quanto conta l'effettiva realizzazione pratica di certi progetti. Allora, che cos'è Manent? Manent applica appunto una sorta di firma digitale del futuro, con una marcatura temporale, una proprietà intellettuale, possiamo verificare che quel documento, quel file, è effettivamente nostro, perché lo carichiamo noi, lo andiamo a includere sulla blockchain, andandolo a firmare con una transazione dalla chiave privata del nostro wallet. Quindi è una cosa che apparteneva a noi e possiamo dimostrare che è nostro. Mentre invece nel mondo della digitalizzazione è molto difficile andare a riconoscere proprietà intellettuali. Quindi anche una firma digitale, perché possiamo andare a firmare un documento, con la nostra firma che appartiene a noi, perché è il nostro indirizzo, e ovviamente nell'app è anche presente un wallet, quindi si può anche semplicemente utilizzare come wallet per la moneta digitale, l'Ira, che è la moneta che appunto permette l'incentivo economico che fa girare la blockchain. Vi ricordo ancora una volta, e sfrutto questa occasione, per non cadere, non farvi cadere nel trabocchetto bitcoin sì, bitcoin no, blockchain sì. La blockchain non può esistere senza un incentivo economico, quindi bitcoin e blockchain sono in qualche modo indivisibili. Ci sono poi altre blockchain, come esempio questa di scripta, o quella di Ethereum, no? Ma questa di scripta, nel caso specifico, si basa sull'incentivo economico dato dalla sua moneta, che è l'Ira. L'Ira che serve appunto per mantenere la sicurezza della rete, perché l'incentivo dato dalle reward sulla produzione tramite proof of stake e masternode, permette a diversi nodi di essere appunto attivi e convalidare transazioni, rendere il tutto quindi distribuito. E in più, le commissioni che si dovranno pagare per certificare determinati file nel salvataggio all'interno della blockchain, verranno pagati appunto con l'Ira. Quindi è questo il vero senso di utilizzare blockchain proprietari. Cosa realizza appunto Manent? Realizza l'idea di avere un'archiviazione decentralizzata. Possiamo andare a salvare e archiviare i nostri file, ad esempio file che non vogliamo perdere e deteniamo su uno smartphone, in qualche modo certificati e messi in un archivio distribuito, perché tramite IPFS, aspetti un po' più tecnici, andiamo a salvare l'equivalente, a certificare l'equivalente di quel file su blockchain e quindi distribuirlo tra i nodi della rete scripta. Come sapete, scripta, o forse no, ma comunque ve lo dico io, scripta ha una foundation e faccio parte del team scientifico legato a questa foundation, scripta foundation, che ha sede maltese e scripta sarà presente agli eventi di Milano con la CryptoCoin France di Milano e poi al Firenze Blockchain Day che avverrà più avanti a dicembre. Di questo ve ne parlerò tra un po' anche perché c'è un regalo per tutti coloro che parteciperanno a questi eventi proprio da parte di scripta e della scripta foundation. Ma adesso andiamo subito a vedere l'esempio pratico di come effettivamente andare ad installare il wallet, perché di wallet si parla, è un'app, si installa, e come utilizzare queste funzionalità di cui vi ho parlato è molto semplice, lo vediamo subito. Praticamente andate sull'Apple Store perché è anche su Apple, sia Apple che Android, quindi sia Play Store che Apple Store e potete cercare o scripta manent oppure manent direttamente. Io in questo caso ho cercato per manent, troverete scripta manent, appunto un'applicazione che è sullo store da poco, diciamo. Andate a fare il get, carica o comunque scarica e installa. A questo punto l'apriamo e andiamo a vedere come si presenta. Dobbiamo creare una password, questa password serve a mettere in sicurezza quello che è il wallet o l'applicazione, quindi andiamo a inserire una password sicura, ce lo andiamo ad annotare come sempre. Benissimo, una volta inserita la password abbiamo inizializzato quello che è l'applicazione o il wallet, andiamo a fare next. A questo punto andiamo a fare un backup del seed. Questo file è tutto ciò che va a racchiudere la chiave privata del nostro wallet, quindi è la cosa da tenere in sicurezza, è quello che detiene tutto quanto. Come sempre, se fate un backup vi sconsiglio di metterlo online, dovrebbe essere offline e più al sicuro possibile. Potete fare anche un download del paper wallet. In questo caso vi sto facendo vedere come faccio un backup e lo mando su una email. Ovviamente questa sarebbe una procedura da non fare, io adesso per praticità nella realizzazione di questo video vi sto facendo questa cosa, vi sto facendo vedere questo procedimento, ma non fate così. Non salvatelo per email, non mettetelo online per alcuna ragione. Bene, fatto il backup possiamo accedere al nostro portafoglio. Vediamo che inizialmente ci mostrerà un equivalente di 0.05 lira con cui verrà precaricato questo wallet, così che potremo già fare le primissime operazioni perché la fee poi vedremo per la certificazione di file è bassissima, quindi bastano anche questi per già poter certificare un bel po' di file sulla blockchain. Questo proprio per dar modo anche a chi non avesse di lira già di poter utilizzare quello che è la funzionalità. Abbiamo anche il prezzo sul mercato di lira che viene preso come riferimento dai vari exchange e queste sono le funzionalità, abbiamo dashboard, account, nell'account vediamo appunto quali sono i vari account, possiamo anche averne più di uno nella stessa app. Le cose interessanti, oltre a effettuare il backup e alle informazioni sulla versione dell'applicazione, è poi quello di poter fare questa certificazione di file che si trova nell'ultima tab, questa della vault. Adesso io prima di passare a questa procedura mi inverò alcuni lira proprio per farvi vedere come funziona anche come wallet e da receive abbiamo il nostro wallet, lo possiamo copiare oppure possiamo utilizzare il QR code, insomma esempio classico. Andiamo a copiare se no l'indirizzo, ce lo inviamo magari su un nostro, in questo caso l'ho inviato al mio laptop, al mio Mac, così che da lì ho il mio wallet che adesso vi faccio vedere e ho inviato 100 lira di prova sul wallet praticamente su mobile app. Allora andando poi sulla vostra, diciamo sul wallet, sul Mac o dove avete tenuto i vostri lira, potrebbero anche essere stati appena acquistati da Exchange, insomma andate ad inserire l'indirizzo pubblico dell'applicazione, andate ad inserire il quantitativo che volete inviare, lo selezionate e andate a fare invia, come per qualsiasi altro wallet. Sappiamo di come effettivamente le commissioni poi su lira e scritta siano bassissime, grazie anche alla proof of stake come con il metodo di convalida, vedete che le commissioni sono veramente basse e la convalida avviene in pochissimo tempo. Ed ecco qui, una volta inviati, li troveremo sul nostro wallet, ecco qui che adesso ci sono 100.05, quindi ho inviato 100 lira sul wallet, funziona come un normalissimo wallet, abbiamo funzionato di send e receive. A questo punto andiamo sull'ultima tab, quella volt, e lì volta, possiamo fare un upload di nuovo file, per salvarlo effettivamente per sempre tramite quel sistema IPFS di cui vi ho spiegato prima. Andiamo a fare upload new file e possiamo fare, possiamo scegliere effettivamente, prima dargli un titolo, no? In questo caso farò titolo test. Andiamo a scegliere un file anche dalla nostra directory, dalle foto del nostro telefono, ad esempio adesso caricherò una foto, andrò a caricare la cover di un video che ho realizzato qualche giorno fa. Quindi vado nella mia libreria e seleziono la mia foto. A quel punto possiamo anche metterci una nota, quindi con del testo, così da ricordarci che cos'è quel file e questa per me è la cover del video che ho realizzato, tre cose da non fare quando Bitcoin scende. A cosa serve questo? Serve per certificare che questo contenuto digitale è di mia proprietà intellettuale, quindi che questa cosa effettivamente mia vennerà certificata in questo momento esatto in cui la carico, su una blockchain, quindi sarà incorruttibile e incancellabile, non potrà mai sparire questa cosa finché la scripta blockchain esisterà. E non è presente su un server, adesso lo carichiamo, ma quello che si sta facendo è distribuirlo su tutti i nodi della rete. Quindi verrà effettivamente archiviata in modo distribuito e decentralizzato. A quel punto adesso ci dice che bisognerà aspettare almeno due minuti per poterla effettivamente vedere. Benissimo, un'altra cosa che vi voglio far vedere è che possiamo, qui andiamo su inizia subito per poter scaricare le varie app, abbiamo Google Play, App Store e poi Web App. Se andiamo su Web App abbiamo la possibilità di avere questa applicazione anche su browser e adesso ve lo faccio vedere direttamente. Questa è la web.manent.app, l'app su web, su browser. Adesso o creiamo, come vi ho fatto vedere nell'applicazione, un nuovo wallet direttamente da qui, se non ce l'abbiamo, se non vogliamo installarlo magari, se non ci fidiamo di tenerlo su un'applicazione mobile, che è molto pratica ma allo stesso tempo paghiamo come sicurezza, oppure andiamo ad importare quel seed di cui abbiamo fatto backup. Ovviamente nelle operazioni di avere un seed che si esporta, che si importa, che si muove troppo, ovviamente abbiamo un rischio, perché ogni volta che un file contenente una chiave privata viene esposto o mosso più del dovuto, abbiamo sempre il rischio di poter essere in qualche modo intercettati in questo movimento. Quindi in questo caso è solo in modo, diciamo, esplicativo. Ovviamente bisognerebbe prendere tutte le sicurezze del caso, in cui non potrei, di questo discorso non potrei ilungarmi adesso. Ovviamente lo abbiamo già approfondito e non mancherò di approfondire ancora aspetti di sicurezza di questo tipo qui. Comunque andiamo a fare un import. Lo vado a fare dal browser dal mio computer. Ecco qui. Una volta che si accede, che si importa il seed, abbiamo la stessa visualizzazione ma da desktop, su web app, quindi su browser, su internet. Qui abbiamo una sintesi delle ultime transazioni, quindi come vedete, la prima creazione di Manent, dell'applicazione, del wallet. Poi la seconda è stata il mio invio di 100 lira e poi quella transazione per andare a caricare il mio file con una certificazione IPFS. Da qui abbiamo tutte le stesse funzionalità, possiamo fare del send, mettendo l'indirizzo e quanto vogliamo inviare. Ovviamente ci chiederà la solita password e possiamo ricevere tramite QR code, oppure copiando l'indirizzo, ovviamente, l'indirizzo pubblico. Adesso andiamo a vedere, c'è il data explorer, che è molto interessante. Da qui possiamo vedere quelli che sono stati i file archiviati in modo decentralizzato. Adesso non so se è passato abbastanza tempo per poter andare a verificare che anche il file che ho appena certificato sia già presente, ma in ogni caso lo potremmo cercare in questo data explorer, andando a cercare il nostro indirizzo pubblico oppure andando a cercare il nostro hash. In questo momento non è ancora stato registrato, perché effettivamente l'ho fatto poco prima di fare questa parte di video, comunque verrà visualizzato su questa parte della blockchain grazie al data explorer, che possiamo avere in visualizzazione a lista oppure in visualizzazione forse più comoda in questo modo qui. Intanto quello che possiamo andare a fare è prendere questa transazione, questo transaction ID, e andarlo a verificare sulla blockchain. Utilizzando il block explorer, quindi se direttamente dal sito principale e ufficiale di scritta, andiamo su explorer, accederemo così al block explorer della blockchain di scritta. Inserendo quello che è la transaction ID, possiamo già verificare, eccola qui, abbiamo l'hash, il tempo di avvenuta transazione e troviamo le informazioni sull'output. Se vediamo, ecco qui le informazioni sulla nostra transazione e troviamo anche il testo che avevo inserito prima, direttamente su quello che è la blockchain di scritta. Adesso appena sarà effettivamente visibile, andrò magari a visualizzarlo anche qui nel data explorer, appena sarà appunto aggiornata questa attualizzata, quella che sono i dati sulla blockchain, e troveremo il file anche su data explorer. E vi dico l'ultima parte di cui voglio parlarvi oggi, a parte i vari sviluppi legati proprio a scritta, che oggi non riuscirò a coprire, parlo solo di Manent, voglio ricordarvi anche di questo aspetto, di come appunto per tutti coloro che saranno alla Crypto Coin Friends a Milano, il 14 novembre, quindi tra pochissimo, ci sarà la presenza della scritta Foundation, con questi rappresentanti che vi sto mostrando ora, e stesso discorso che vi sto per fare vale anche per tutti coloro che saranno al Firenze Blockchain Day, che avverrà il 6 dicembre, entrambi gli eventi troverete anche me, perché sarò ambassador della Crypto Coin Friends 2019, e sono ovviamente membro del team scientifico di scritta, come membro del team scientifico sarò anche alla Firenze Blockchain Day, dove avrò anche un paio di interventi, quindi mi vedrete anche in un ruolo anche più attivo. Quello che volevo dirvi è che praticamente, oltre alle brochure che vi ho mostrato poc'anzi, quello che si andrà ad avere come regalo saranno un numero massimo, ovviamente limitato a mille, tra le due conferenze, di questo wallet bellissimo, ovviamente è una card con un indirizzo pubblico e una chiave privata al suo interno, quindi collegata a quell'indirizzo, sul quale sarà possibile andare a salvare i nostri lira. Quindi è praticamente un wallet, un wallet portabile, o qui come lo chiama qui il wallet tascabile di scritta, guardate che bello, praticamente ce ne saranno mille distribuiti in modo gratuito a coloro che parteciperanno a queste conferenze, ed è un wallet a tutti gli effetti, sarà possibile pagare anche, utilizzarlo per pagamenti o ricezione, proprio in modo contactless, no? NFT. Ci vediamo quindi a Milano o a Firenze, oppure comunque sia per il prossimo aggiornamento scritta, vi ringrazio per l'attenzione su questo video, ciao a tutti. Vado a fare adesso una prova di caricamento direttamente dalla app di Manent, quindi da browser. Vado qui su Vault e andrò a cliccare su Upload, il titolo lo chiamerò Picture Test, non andrò a fare un encrypting sul file, cosa che possiamo anche selezionare. Ho selezionato il file dove c'è praticamente, lo faccio vedere, praticamente questo file qui, dove c'è la mia certificazione di adesione alla scripta foundation come staff nel team scientifico, quindi scriverò nel testo del messaggio qualcosa che mi ricordi, cosa era legato questo file, e vado a caricarlo, così da certificarlo tramite blockchain, o meglio andare a rendere immutabile e registrare la proprietà intellettuale di quel file al proprietario del address con cui viene caricato, ossia io. Vediamo quindi in dashboard l'aggiornamento dell'avvenuta transazione, possiamo controllarla ora sul Data Explorer, ho lasciato passare un paio di minuti. Ecco qui la certificazione, quindi troviamo nei dettagli il timestamp al quale è avvenuto appunto il caricamento, l'indirizzo e tutto quanto. Possiamo andare a vedere meglio nei dettagli, nei quali potremo stampare il certificato legato a questo caricamento, eccolo qui, magari salvarlo in pdf, se vuole essere un documento, non so, valido. E qui abbiamo i dettagli sull'IPFS hash. Qui possiamo controllare tramite questo link, proof.scriptachain.org, tutti i vari caricamenti. Ora io non sono andato a cifrare, a criptare quello che è stato il file, quindi eccolo qui, lo andiamo a trovare in chiaro, diciamo. Questo è il testo che avevo aggiunto e lo troviamo appunto caricato e disponibile su quella che è la Blockchain Explorer, che è un Blockchain Explorer sulla proof of existence di scritta. Ecco qui i dettagli ancora una volta. Grazie. 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 Grazie.